buongiorno a tutti oggi siamo a ponte tresa per mostrarvi questo 4 e mezzo locali come potete vedere all'esterno dell'appartamento abbiamo un portico e proseguendo entriamo all'interno dell'appartamento entrando veniamo subito accolti da questo open space molto ampio notiamo subito la cucina e come potete vedere è composta da lavastoviglie lavabo piano di cottura a induzione il forno congelatore e frigorifero guardate come rimane veramente luminosa questa zona proseguendo possiamo notare che abbiamo l'ascensore che arriva direttamente all'interno dell'appartamento proseguendo entriamo nella zona notte a sinistra abbiamo la prima stanza frontalmente troviamo il primo bagno come potete vedere è composto di specchiera lavabo pc e doccia girandoci alle nostre spalle abbiamo la seconda stanza che può anche essere tranquillamente utilizzata come ufficio troviamo anche il secondo bagno che è composto di specchiera lavabo vide bc e una comoda vasca da bagno infine la terza stanza infine la terza stanza come potete vedere rimane veramente ampia e in questa zona abbiamo anche gli attacchi attraverso questo corridoio possiamo ritornare nella nostra area living e avere accesso a questo balcone che ha una vista mozzafiato come potete vedere intanto il balcone è di generosissime dimensioni e come detto dà veramente una vista incredibile sull'acqua se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni non esitate a contattarci ti affitto grazie a tutti